Fusi, abbassiamo lo studio, Mameli. Ma io vorrei ragionare con i tanti che ci ascoltano su una cosa che ha detto la Meloni, che si è scagliata in un modo osceno contro Saviano, che parla di Camorra, che parla di mafia, di Sacra Corona Unita, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è possibile scagliarsi contro uno scrittore che racconta la corruzione diffusa in tutta Italia, anziché di ringraziarlo, e lo riprovera che vende libri, ma perché non accuserete chiunque, accuserete anche Mangioni. Abbassiamo, abbassiamo, concentra, uno può scrivere, mi perdoni, quando Saviano dava della bastarda alla Presidente del Consiglio, lei non si è scandalizzata, lei non ha detto tutto lo studio, abbassiamo lo studio, o eventualmente avesse sbagliato a dare della bastarda, e comunque c'è un tribunale che se ne occuperà, che c'entra quei libri che ha scritto? Guardi che Céline era una persona orrenda e l'ha scritto dei bellissimi libri. Non ce la si può prendere, perché la Meloni non ha in simpatia Saviano. Ma che c'entra avere in simpatia? Ma è Presidente del Consiglio, ma che fa? Togli la scorta a chi gli è antipatico, ma su, forse. No, 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 è questo il problema, è questo il problema, è quello che ci scandalizziamo solo una parte, sono due scandali differenti, Fusi, Mazza, prego.